Presentiamo in questa conferenza stampa, io ci ho tenuto particolarmente che ci fosse qui accanto a me, accanto a noi, Luca Lopoti perché con Luca abbiamo fatto l'esperienza della Leopolda, la prima, l'abbiamo costruita quella Leopolda lì, che era una Leopolda in cui sostanzialmente si veniva visti un po' come dei marziani in una politica molto ferma, con un Parlamento che non produceva nulla se non solo dal mondo dell'impresa al mondo della scuola, che si attenderanno in questo palco sempre con la formula dei 5 minuti Ho parlato sull'inchiesta sul petrolio, avete già letto i giornali, quindi io non ho nient'altro da aggiungere ho tanto da dire invece sulla Leopolda perché è un'occasione di scambio di idee, di persone che raccontano storie, che vivono le esperienze politiche, che le raccontano, che si confrontano, che dialogano e che dibattono Credo sia un'esperienza bella, positiva, costruttiva e mi auguro che ce ne siano altre come questa in giro per l'Italia